Ovviamente non si può parlare di imprese femminili senza delle testimonianze, lei può portare l'esperienza legata a uno dei temi principali di questa mattina, quello della certificazione. Sì, io sono Lucia Arcangeli, sono social lavoratrice della cooperativa Sociali Beta 2 di Arezzo e sono qui oggi per raccontare un po' la nostra esperienza in quanto faccio parte del Comitato Diversità, Equità e Inclusioni che è uno degli organi di attuazione e di controllo che la certificazione Unipdr 125 per la parità di genere nelle organizzazioni prevede al suo interno. Questa certificazione è arrivata tra le primissime in Italia, infatti siamo tra le prime due cooperative sociali in Italia ad averla conseguita e rappresenta, oltre a fornire dei vantaggi competitivi proprio per partecipare a gare ed altro, rappresenta proprio una guida, grazie anche a degli indicatori di prestazioni che aiutano rispetto al miglioramento organizzativo e rispetto anche al guidare nel difficile tema della parità di genere. Grazie, a posto. Grazie. 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 Grazie.